Mattina profumo di festa, apro la mia finestra, sento la gente passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica è in pazza, allora vai tutti in piazza. A Castellarano la ferramenta PPR ti semplifica la vita, vende e ripara macchine da giardino con un reparto dedicato alla vostra casa, dove troverete stufe, cammini, barbecue e casalinghi di ogni genere. A Sassuolo Gruppo Cabrini, da più di 30 anni nel settore dell'antinfortunistica e di segnaletica, aziendale, stradale e da cantiere. Stampe e ricami su ogni tipo di vestiario, incisioni e taglio laser su diversi materiali, sopralluoghi gratuiti e servizio di montaggio. Eurocasa, da oltre 25 anni, specializzati nel realizzare i tuoi sogni. Vienici a trovare, siamo a Fiorano Modenese, Sassuolo, Maranello, Castelnuovo Rangone, Formigine. Farti sentire a casa è un'emozione unica ed è quello che sappiamo fare meglio. A Castellarano, Farmacia Alessandrini, ci trovate aperti dal lunedì al venerdì, orario continuato, dalle 8 alle 19.30. Sabato, dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. A Veggia, nei pressi di Sassuolo, CRIMAX Estetica Armonie di Bellessere, un team di professionisti che collaborano nella nostra struttura è a disposizione per aiutarti nel tuo percorso di benessere, specializzati in estetica avanzata con tecniche e strumentazioni all'avanguardia. Impero SRL, lavorazione all'amiere made in Italy. Operiamo nel settore della realizzazione di componenti di carpenteria per compatto alimentare, ceramico, logistica e settore ferroviario, specializzati nella costruzione conto terzi. A Castellarano, immobiliare vecchi, dal 1998 prendiamo per mano i nostri clienti e li accompagniamo in piena trasparenza e sicurezza nel percorso di compravendita immobiliare, cercando insieme la casa dei tuoi sogni, occupandoci anche delle pratiche burocratiche. Edil 4, con oltre 20 anni d'esperienza, offriamo professionalità al miglior rapporto qualità-prezzo. Edilizia, doverosamente, made in Italy per costruzioni, ristrutturazioni e fondamenta di eccelsa qualità. Ciao, piacere, io sono Alessandro Lentisco, presidente della Proloco di Castellarano e siamo qui alla 52esima edizione della Festa dell'Uva, insomma la festa di paese più, la più grossa di Castellarano. Come tutti gli anni siamo rimasti in una delle poche feste che mettono ancora in paglio per la lotteria una macchina e quest'anno, più o meno come gli altri anni, una Fiat Panda. Cinque giorni di festa, siamo partiti un mercoledì sera con una degustazione di vini che abbiamo differenziato dagli altri anni, che era sempre una cena a tema. Quest'anno una bella degustazione, molto partecipata, abbiamo fatto più di 150 coperti, poi ci siamo dovuti stoppare per la buona riuscita. E poi, vabbè, giovedì, come al solito, la Festa dell'Uva qua a Castellarano, tutti lo sanno, è che due gocce d'acqua lo devono fare se non è festa dell'Uva, quindi anche sia giovedì sera che venerdì, insomma, due gocce le abbiamo prese, ma non ci siamo spaventati, ormai siamo temprati su questa cosa, quindi abbiamo tirato avanti e siamo riusciti comunque a completare le serate. Abbiamo degli ospiti abbastante importanti, sempre qualche personaggio famoso, quest'anno abbiamo dei comici molto famosi e abbiamo, la festa è molto grossa, è dislocata su tutto il centro storico, su, insomma, quasi tutto Castellarano, il castello, il Parco dei Popoli, che è uno dei parchi più grandi della regione. Abbiamo più di 300 volontari che lavorano e ci aiutano in questa realizzazione e sono quasi tutti, comunque, fanno parte di associazioni e volontariato di Castellarano, quindi siamo veramente in tanti e questo ci contraddistingue, insomma, un po' da altre realtà e di questo ne andiamo molto fieri. La festa finisce oggi, domenica, con i fuochi d'artificio, quindi alle 11 li spareranno dalla diga, è un classico rituale ormai. Ci aspettiamo numerosi, qua si mangia, si beve, si balla, si diverte, è tutto ingresso gratuito, non c'è bisogno di prenotare, non c'è bisogno di fare i biglietti, di pagare e abbiamo ristorazioni, prodotti tipici, tortelli fatti in casa, grigliate, stinco, arrosticini e insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutte le qualità. Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano, presidente della provincia di Reggio Emilia. Siamo alla Festa dell'Uva, la 52esima edizione, un'edizione molto ricca, una festa che sta crescendo molto negli anni, una festa che si basa anche e soprattutto sui giovani, i giovani che si auto-organizzano, che si organizzano con la Proloco, con le tante associazioni locali, insieme ovviamente all'amministrazione. È una sagra, questo certamente, quindi mantiene le tradizioni, mantiene i sapori, mantiene la bellezza del territorio e la promozione, la valorizzazione del territorio. Siamo davanti alla Rocchetta, uno degli edifici, se non l'edificio simbolo della nostra comunità, in uno dei centri storici, alle mie spalle, tra i meglio mantenuti di tutta la regione. Vogliamo metterla in mostra, vogliamo valorizzare, vogliamo valorizzare non soltanto le nostre bellezze locali, ma anche il buon cibo, la tavola, le tradizioni, ma anche e soprattutto, dicevamo, una festa per giovani, una sagra per giovani. Qui la sera ci sono tanti punti ristoro gestiti da giovani, ci sono anche di fatto due o tre punti, anzi tre o quattro punti, che sono quasi delle piccole discoteche a cielo aperto, dove però c'è un clima di grande festa, un clima di grande collaborazione, un clima dove fino alle due di notte, nel nostro borgo storico, nel Parco dei Popoli, che è uno dei parchi urbani più importanti della provincia di Reggio Emilia, i giovani si organizzano per divertirsi e per farlo in una maniera non tanto contenuta nei modi e nei termini, ma per farlo in una maniera che possa far divertire tutti, partecipare tutti e sentirsi parte di una grande comunità. Per fare tutto questo bisogna ringraziare certamente la Proloco Castellarano, i tanti volontari, le tante associazioni, sono probabilmente più di 400 i volontari che lavorano a questa festa per far sì che questa cinque giorni sia per noi una cinque giorni indimenticabile. Non è l'unica festa, poche settimane fa abbiamo organizzato l'Electronic Barbecue insieme a Benny Benassi, sempre nel nostro Parco dei Popoli, più di 10.000 persone. Insomma, Castellarano è un paese giovane, che però parla ai giovani sicuramente, ma parla a tutta la comunità. Questo è uno dei grandi orgogli che abbiamo come comunità e quindi vi invitiamo anche nelle prossime occasioni, anche durante l'autunno, la prossima primavera e di nuovo la prossima estate, a farci visita, perché è un paese certamente molto bello e caratteristico, con uno dei centri storici più belli di tutta la regione, certamente, ma è anche un paese che si sa divertire in maniera sana e consapevole. Quindi vi aspettiamo. Grazie a tutti. 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 A Castellarano la ferramenta PPR ti semplifica la vita. Vende e ripara macchine da giardino con un reparto dedicato alla vostra casa, dove troverete stufe, cammini, barbecue e casalinghi di ogni genere. A Sassuolo Gruppo Cabrini, da più di 30 anni nel settore dell'antinfortunistica e di segnaletica aziendale, stradale e da cantiere. Stampe e ricami su ogni tipo di ricambi 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 su ogni tipo di vestiario, incisioni e taglio laser su diversi materiali, sopralluoghi gratuiti e servizi di montaggio. Eurocasa, da oltre 25 anni specializzati nel realizzare i tuoi sogni. Vienici a trovare, siamo a Fiorano Modenese, Sassuolo, Maranello, Castelnuovo Rangone, Formigine. Farti sentire a casa è un'emozione unica ed è quello che sappiamo fare meglio. A Castellarano, Farmacia Alessandrini, ci trovate aperti dal lunedì al venerdì, orario continuato, dalle 8 alle 19.30, sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. A Veggia, nei pressi di Sassuolo, CRIMAX Estetica Armonie di Bellessere, un team di professionisti che collaborano nella nostra struttura e a disposizione per aiutarti nel tuo percorso di benessere. Specializzati in estetica avanzata con tecniche e strumentazioni all'avanguardia. Impero SRL, lavorazione all'amiere made in Italy. Operiamo nel settore della realizzazione di componenti di carpenteria per compatto alimentare, ceramico, logistica e settore ferroviario. Specializzati nella costruzione conto terzi. A Castellarano, immobiliare vecchi, dal 1998, prendiamo per mano i nostri clienti e li accompagniamo in piena trasparenza e sicurezza nel percorso di compravendita immobiliare, cercando insieme la casa dei tuoi sogni, occupandoci anche delle pratiche burocratiche. Edil 4. Con oltre 20 anni d'esperienza, offriamo professionalità al miglior rapporto qualità-prezzo. Edilizia doverosamente made in Italy per costruzioni, ristrutturazioni e fondamenta di eccelsa qualità. Partina profumo di festa, apro la mia finestra, sento la gente passare, cose buone da mangiare. E' un po' dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti, siamo della stessa razza, e togliamoci la corazza. La domenica è pazza, allora vai tutti in piazza.